Ciao ragazzi, 6 maggio, sono esattamente le ore 20, sono appena arrivato da Roma, stavo andando a cena, poi improvvisamente un rumore da lontano mi chiamava, neanche vi dico che cosa era, c'è un mare incazzatissimo, che a me piace da morire anche così. Tira tanto vento, spero che l'audio sia buono, questi sono i momenti in cui fa più bene venire al mare, ma non ve lo devo dire, e poi invece di guardare questo faccione, guardate un po' che meraviglia. A me ragazzi, sarò strano, mettetela un po' come vi pare, a me il mare piace soprattutto quando è così. Le settimane passate ve l'ho mostrato, ve l'ho mostrato calmo, piatto, ma a me il mare piace anche quando è così ragazzi. Meraviglia. Un mare che si gonfia in una maniera impressionante, cioè non so se le immagini rendono, guardate come si gonfia il mare. Spero sia di vostro gradimento e vi auguro soprattutto una buona cena. E una buona, e anche una buona notte.